e no è allora cazzo e dopo non mi va un'altra volta allora è inutile allora è inutile devi tagliarlo sto coso che è anche pericoloso questo è sempre stato un pezzettino veramente bislacco cazzo e bislacco e diglielo nella maniera giusta perché è un passaggino di merda questo con tutto il posto che aveva qui doveva cadere giù no? rompi i coglioni figaro è stupido come non mai questo dai lì è che si è rotto lì giù e giù fino in fondo no ma pesa chi è che rompe le valle se però noi facciamo un taglio solo li buttiamo giù una volta e basta che facciamo prima prima e questo va giù di là dici che è meglio non fidarsi guarda guarda cosa ci ha attaccato la dici eh vabbè mia giù adesso vediamo ah 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 effettivamente o è quello l'indale questo qua invece dovremmo tagliarlo qua che dopo tanto si appoggia tanto noi passiamo sotto lì sì quindi ci stiamo normale che è verde a posto si non si muove non viene non viene giù anche perché adesso fra un po si appoggerà questo basta questo è attaccato alla radice non cade è facile che poi no non butta più perché troppo basta butta il della e fine ci hanno trovato siamo qua aiutateci eccolo no 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 no